Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo di palettes. Ho avuto difficoltà a decidere che tipo di video sulle palettes fare. E sarà, vi dico, un video misto, un misto recensioni, all... Perché quando io ho smesso di girare, mi sono messa in pausa, ho anche detto non prendiamo più niente, tanto non riusciamo a girare niente, quindi non avrebbe avuto senso. Vi dico già che non è andata così. Quindi, appunto, questo sarà un po' un misto. Vi faccio vedere tutte le palettes che sono entrate nella mia vita in questi mesi. Anche alcuni aggiornamenti su quelle che avevo preso al Black Friday. Ah, un'altra cosa. Io l'ho scritto nelle informazioni dell'ultimo video che ho caricato. Quel video lì era preregistrato. L'ho registrato a fine marzo. Prima di mettermi in pausa ho detto tanto... Cioè, quella era la speranza di girarlo, montarlo molto velocemente, e metterlo online. Non è stato così perché, purtroppo, i miei video di quel tipo girati durano circa due ore. Quindi ho dovuto assolutamente tagliare. L'ho montato solo adesso, visto che dopo il video sulla Golden Palette non avevo avuto l'opportunità di girare altro perché me ne è capitata di ogni. Diamo inizio a questo video. Allora, qua ci sono tutte le palettes di cui vorrei parlarvi solo un po'. In questi mesi non credo siano uscite così tante palettes, almeno per quanto mi riguarda, per quelle che interessano a me di solito. Però mesi prima ne erano uscite alcune su cui avevo soprasseduto. Ecco, poi non ho resistito, ho iniziato a vedere video, mi è venuta voglia e le ho recuperate. Prima di parlare di tutte queste palettes, una precisazione sulla Gold, sulla Golden, non ce la farò mai. Di questa palette vi ho fatto un video specifico che tenevo a farvi soprattutto in riferimento e in comparazione con la Gold. Però in quel video è andato tutto un po' storto, ho dovuto fare un po' di collage. In questi collage sono andati tagliate dei pensieri che avevo su questa palette e che ci tengo a dirvi però. Vi ho detto che secondo me la formula anche delle colorazioni già presenti nella Gold è differente e in alcuni casi anche il colore è purtroppo differente. Il motivo per cui non è stato possibile rifare in modo identico le cialde della Gold è spiegato bene da una ragazza che è su Instagram che si chiama la pagina del Lesbian Lipstick. Io vi consiglio di seguirla, è americana, quindi parla inglese, però lei spiega benissimo perché non si può tornare ad avere la stessa formula e gli stessi colori di un prodotto realizzato anni e anni prima soprattutto cambiando laboratorio, io credo che qua il laboratorio sia diverso e lei spiega benissimo questa cosa, lei tra l'altro ha fatto parte dell'industria cosmetica quindi sa di cosa parla. Oltre a queste cose fa un sacco di recensioni, video recensioni, soprattutto sulle formule, ne sa un sacco, io comunque vi consiglio di seguirla. Altra cosa che vi avrei voluto dire in quel video, che vi ho detto ma ho tagliato, è che speravo uno che Natasha Denona rifacesse la Gold in formato MIDI per poter permettere a chi si era perso con la palette di poterla avere. Naturalmente sarebbe stato bello averla nella stessa formulazione. Altra strada che avrebbe potuto prendere, e questi sono solo i miei pensieri, non sono Natasha Denona, non voglio esserlo, però un'altra strada percorribile che avrebbe potuto prendere era, ok, mantenere alcune colorazioni, metterne altre di nuove, ma cambiare completamente la formula di alcuni shimmer, cioè attualizzarla a quelle che sono più nuove, sparkling, foiled e wet effect, però quelli fatti bene. Detto ciò, della Golden ho già parlato a sufficienza in quel video. Palette che avevo preso durante il Black Friday, presa non voluta, nel senso mi è rimasta perché l'avevo presa per un regalo, ma arrivata rotta, frantumata, mi avevano fatto il rimborso, io poi per il regalo l'ho ricomprata da un'altra parte, e questa qua non l'avevano voluta indietro, l'ho tenuta io, ho ricompattato la cialda, che è questo azzurro qua, che secondo me è il colore più bello di tutta la palette, che è Supercluster, insieme a Kazar, che è questo verdino duo chrome, trio chrome. Questi per me sono gli ombretti più belli di tutta la palette. Allora, molti di voi già mi avevano detto che questa palette era bellissima, di prenderla, provarla, a me le colorazioni non convincevano, e sullo schema colori, adesso vorrei far disastri, continuo a pensarla più o meno allo stesso modo, non è uno schema colori che fa per me. I matt sono parecchio simili a tutti i matt che si trovano nelle palette di Anastasia, forse tranne questo qua, che è il violetto, che è Eclipse, che tra l'altro sembra scuretto in cialda, ma poi sull'occhio non lo è così tanto, infatti io per intensificare parecchio andavo con questo qua, che è Dark Matter, non so, ultimamente mi è presa la smania, anche se non si direbbe oggi, di intensificare parecchio l'angolo esterno, proprio tanto, e con questo violetto qua non ci riuscivo, allora andavo su lui, che ha dei brillantini, che però poi una volta sfumato l'ombretto non si notano. Ah, no, c'è un altro colore che mi piace, questo qua più scuro, però bisogna farci attenzione, perché essendo così scuro, se fa fallout è un disastro. Questi rosini qua, violetti e rosini di shimmer, non mi fanno impazzire, né come finish sull'occhio finale, ma neanche come resa, perché su di me, questi tre colori qua, hanno una pessima resa, cioè una pessima durata, però anche il finish non mi piace, nel senso lo trovo più un metallizzato, che non uno shimmer, e sono poco brillanti sull'occhio, secondo me Anastasia ha degli shimmer migliori. Tolti quegli altri due, che sono Kazar e Super Cluster, questi qua non mi piacciono. Altro colore che su di me non dura, è questo grigio qua, che è Mercury, è un po' scuretto, però mi piace. Vedete che comunque, non è uno shimmer potente, è più un metallizzato, non ha brillantini o cosa, è pieno come colore, ma non è brillante come piace a me, non dà l'effetto bagnato, ecco. Cosa che invece danno questi due qua, appunto, l'effetto bagnato, sono Kazar, questo qua più verdino, e Super Cluster. Sono però più dei topper, altro bello, ma un po' complicato da usare, è questo più scuro, complicato semplicemente, bisogna fare attenzione al fallout. Questo qua anche ha degli shimmerini all'interno, però naturalmente, essendo così scuro, l'effetto bagnato si vede poco. Non l'avessi avuta in questo modo, per me poteva stare dov'è, ma più che altro, per una questione di schema colore, che non è proprio il mio. Adesso vi faccio vedere, tutte le palette che avete già visto nel video del Black Friday. Questa palettina qua è di Glaminatrix, ed è la Fairy Light. Io tengo tutte le cartine, se riesco, se non mi cadono. Comunque, questa è la palettina, io non so quanto ho riuscito a vedere, perché sono tutti ombretti luminosi, che hanno dei colori, dei sottotoni leggermente diversi, molto brillanti, molto molto, basta sfiorare la cialda, e il rilascio colore è immediato. L'unica cosa, io non li trovo così sottili, nel senso, il mio paragone restano purtroppo sempre, le shade speciali delle mothership. Non parlo dell'ultima mothership, ma di quelle precedenti. Sono un po' spessini sull'occhio, qua non si vede tanto, ma sull'occhio tendono un po' ad enfatizzare le pieghette, pochino. Hanno una consistenza strana, perché sembrano quasi in gel, però l'effetto bagnato è veramente, veramente bello sull'occhio. Stranamente l'ho usata poco, io ce l'ho appunto dal Black Friday, ho iniziato ad usarla solamente un mese e mezzo fa. Prima non l'ho toccata, perché, non lo so, prendere due palette, quando sono di fretta, perché con questa ho bisogno di altro, quando sono di fretta, la trovo un po' complicata la cosa, ecco, mi fa perdere tempo. ho iniziato ad usarla un pochino di più, abbinandola a degli ombretti in crema. Ecco, secondo me questo è il perfetto abbinamento per degli ombretti in crema, che non sono così luminosi, quanto piace a me, e di questo parleremo un po'. Altra palette che avete visto nel Black Friday, è questa qua di Tom Ford, Suspicion, che avevo visto non essere più disponibile, sul look fantastico, meglio, sembravano sparite queste della vecchia guardia, sparite dappertutto. Anche la New Deep non si trovava più. Ho notato che sono ricomparse, soprattutto su look fantastico le ho riviste, e anche su Selfridges, però su Selfridges, cioè, ci sono delle spese di spedizioni, che, mamma mia, è una palette calda, questa è calda, cioè, non ce n'è, però, non è troppo intensa, non è troppo gialla, ha questo bronzato, sì, che è un pochino più caldo, però, tutte le altre colorazioni, rimangono abbastanza tenui, quindi, per me, perfettamente usabili. La formula è quella, bella, dei Wet Effect, sì, dei Wet Effect, o ce l'ho con sto nome, dei Wet and Dry, della formula Wet and Dry, sapete che a me, quella dell'Electric Cherry, non è piaciuta, proprio per niente, questa invece, è la stessa, della New Deep, che io adoro, è una formula, molto più sottile, molto più elegante, tra virgolette, rispetto a, non so, quella che vi ho appena fatto vedere, di Glaminatrix, non ha niente a che vedere, è lo stesso luminosa, non da effetto bagnato, però, è luminosa, elegante, non metallizzata, mi piace tantissimo, e stranamente, mi piace tantissimo, anche la colorazione, io l'avevo vista applicata, anche qua, da una ragazza su Instagram, avevo deciso, che dovevo recuperarla, ed è veramente, veramente bella, se non uso il bronzato, ma mi tengo, su queste altre, tre shade, viene un look, veramente, veramente fine, se voglio scaldare, uso anche lui, ultima palettina, che avete già visto, sicuramente, in altri video, mi pare, quello su LOL, di Barcellona, e questo, chiamarla palette, è anche esagerato, questo duo di Rabanne, si chiama Rabanne Mini Palette, All Lights On Me, questa l'avevo vista, da Andrea Lee, io, devo mettermi in testa, che, io ed Andrea Lee, abbiamo gusti, completamente diversi, tornassi indietro, questa palettina, non la ricomprerei, o meglio, prenderei forse, la colorazione, quella che ha il marrone, e un bianco, quella, l'avete vista, sicuramente, da Martina Vinay, e Anna Morana, se non sbaglio, ce l'hanno loro due, perché, vi dico ciò, perché, questo, questa cialda, per me, è inutilizzabile, è un balsamo, solo così, posso dirlo, un balsamo, senza colore, senza niente, penso, che, avrebbe dovuto, essere, la base, su cui applicare, questo ombretto, che è un, ombretto, molto sottile, molto bella, come finish, molto glitteratino, però, niente di che, non è un colore, mai visto, ecco, il problema, di quel balsamo lì, è che per me, è inutile, anzi, fa durare, niente, niente, questo ombretto, cioè, proprio, va nelle pieghe, all'istante, io, ci ho provato, in tutti i modi, l'ho messo, come base, su un ombretto, liquido, che, teneva bene, di per sé, zero, ho messo, solo lui, zero, l'ho messo, sopra primer, no, non funziona, boh, me ne devo fare una ragione, infatti, non l'ho più usata, continuo ad utilizzare, questo shimmer qua, magari, per dare un po' più di luce, ad altri ombretti, ad esempio, alcuni crema, che per me, non ne hanno abbastanza, però, un ombretto solo, per quanto carino, però, non è un colore, bellissimo, strano, eccezionale, no, io lascerei perdere, poi, finite, le palette, che avevate visto, in video, il precedente, iniziamo, quello che ho combinato, durante questi mesi, innanzitutto, vi avevo accennato, nell'ultimo video, di un sito outlet, che io ho scoperto, per puro caso, cercando, una palette, di un brand, che in Italia, non se lo fila nessuno, e mi riferisco, a Byredo, e mi è uscita, una palette, che io pensavo, fosse ormai, fuori produzione, apro la pagina, e mi esce fuori, questo sito, all'inizio, un po' scettica, vedendo i prezzi, perché, ha dei prezzi, veramente, da outlet, ero un po' scettica, sono andata a cercare, recensioni online, ne ho trovate alcune, su Instagram, orribili, però, poi sono venuta a scoprire, che in realtà, c'è un altro sito, che si chiama nello stesso modo, però, è completamente diverso, da quello sì, è un sito truffa, questo invece, sembrava di no, perché ho chiesto, a un'altra ragazza, con cui ci sentiamo, lei, lo conosceva, ci aveva già comprato, e mi ha detto, non ti preoccupare, i prodotti, sono originali, l'unica cosa, magari, non arriva, la scatola, magari, sono dei tester, oppure, sono dei rimasugli, di alcune profumerie, che stanno chiudendo, ho fatto un ordine, e nel primo ordine, poi vi faccio vedere, tutto il resto, ma, oggi parliamo di palette, nel primo ordine, ho preso, la palette, che mi ha fatto scoprire, questo sito, e sto parlando, di, questa palette, di Baeredo, questa, è la, Kalahari, palette uscita, due anni fa, che io, avevo visto, naturalmente, in video americani, mi era piaciuta, la texture, ma, vedendo i colori, ho detto, no, non è per me, poi me ne ero pentita, perché l'avevo vista, usare di nuovo, e mi piaceva, anche perché, sembra calda, ma non è così calda, io ve lo assicuro, il trucco, che ho fatto oggi, l'ho fatto con lei, e non è caldo, il colore, più caldo in assoluto, è decisamente, questo arancione, che io, non userò mai, cioè, già ve lo dico, ed è anche il matte, più secco, in assoluto, di questa palette, perché, invece, tutti gli altri matt, sono seta, ha una formula, questa palette, che è fantastica, i matt, sono seta, gli shimmer, sono sottili, sottilissimi, alcuni, sono più, dei satinati, altri, hanno qualche shimmerino, in più, altri, invece, sono proprio, più brillantinati, brillantinati, però, senza essere brillantini, ad esempio, questo qua, che è il mio colore preferito, è sottilissimo, è morbidissimo, morbidissimo, però, senza essere cremoso, perché a me, ombretti cremosi, sulla palpebra, non durano, ed è un colore bellissimo, e non è un colore caldo, un colore neutro, io, lo adoro, altre critiche, che erano state fatte, a questa palette, quando era uscita, che ci fossero, troppi colori simili, qua funziona, secondo me, un po' come, le palette monocromatiche, di Natasha Denona, questi, ad esempio, questi tre colori qua, e questi qua, possono sembrare simili, però, sono tutti in finish diversi, hanno dei sottotoni, leggermente diversi, quindi, alla fine, sono diversi, questi tre colori, che sono i pop di colore, a parte l'arancione, che è, però, quelli scimmerini, il rosso, questo nero grigio, questo teal, sono stupendi, è vero che, di matte, scuri, scuri più o meno, perché questo di media intensità, ha solo questo marrone qua, ma con questi colori qua, si riesce, ad intensificare la palpebra, a sfumarli, come fossero dei matte, so che questa cosa, non è che piaccia molto, di sfumare degli shimmer, come fossero dei matte, io ho imparato a farlo, con le palette di Charlotte Tilbury, ed è una tecnica, che in realtà, mi piace tantissimo, bisogna però, trovare gli shimmer, che permettano, di fare ciò, io oggi, ho intensificato, non troppo, però sfumandolo, il rosso, nell'angolo esterno, a me questo colore, piace tantissimo, infatti, ha già una conchetta, stupenda, l'ho usata, tantissimo, tantissimo, e il bello, è che ogni volta, che la prendo in mano, mi esce fuori, un trucco, che non mi aspetto, aneddoto, quando ho preso, questa palette, io non so, per quale motivo, ho visto la foto, non ho letto bene, il nome, ero convinta, fosse, la Remembrance, che è quella uscita, l'anno scorso, di Byredo, Byredo, fa uscire, una paletta all'anno, dura quell'anno, di vendita, e poi sparisce, ecco, io ve l'ho convinta, fosse la Remembrance, di cui ho sentito, meraviglie, ed ero, sì, l'ho presa, perché aveva, veramente un prezzaccio, rispetto al suo costo vendita, però, come colorazioni, non mi faceva impazzire, io, mi ero, innamorata, di questa qua, quando poi è arrivata, ho visto che era lei, sono impazzita, tra l'altro, questa paletta, aveva come direttore artistico, all'epoca, Isamaya, io la conosco solo come Isamaya, che poi ha creato, un suo brand, Isamaya Beauty, domanda, vi interessa il brand, Isamaya Beauty, perché io sono, molto, molto incistata, peccato, che la paletta, uscita l'anno scorso, per Isamaya, sia, introvabile, e fuori produzione, anche loro escono ad edizioni limitate, c'è ancora quella di due anni prima, quella invece continuano a venderla, non si è capito, vi interesserebbe, perché è arrivato anche su Cal Beauty, e anche su Nike Beauty, io sono un po' tentata, da prendere la prima palette, però, fosse la seconda, non ci penserei due volte, sulla prima ho qualche dubbio, chiedo a voi, fatemi sapere, in caso, la prenderò, mi basta poco come spinta, ecco, poi di Byredo, quest'anno è uscita la nuova palette, visto che mi è piaciuta così tanto, quella formula lì, quando ho visto la nuova palette, ho detto, questa la prendo, è mia, ho aspettato un po', perché aspettavo che uscisse, su Cal Beauty, su Cal Beauty è già in vendita, Byredo, Beauty, Makeup, non so come si chiama, però, le palette, io non le ho mai viste, sapevo che dovevo uscire anche lì, su Nike Beauty, ma, boh, non se ne è saputo più niente, avevo la sensazione che questa palette andasse sold out in fretta, quindi sono andata sul sito di Byredo, spediscono dagli Stati Uniti, ma è tutto in italiano, e ho cercato di capire se ci fosse o meno la dogana, non l'ho capito, poi sono andata a vedere recensioni online, nessuno parlava di dogana, tutti i voti a 5 stelle, ho detto, vabbè, prendiamola qua, si chiama Mineral Escape Palette, ah, sul sito di CM Cosmetics, questa palette mi è arrivata senza pack secondario, naturalmente prendendola dal sito ufficiale, il pack secondario c'è, ed è un po' diverso rispetto alle solite palette, perché si apre così e poi è contenuta in questa scatola, tra l'altro spedizioni rapidissime, sono stati 3 giorni ed era qua, e arriva dagli Stati Uniti, tutta altra cosa rispetto a Pat, ecco, se vogliamo fare qualche raffronto, questa è la Mineral Escape, questo disegno qua, non è che mi faccia impazzire, sono tutte uguali, come pack, cambia solo il disegno, che è in rilievo, sono piene naturalmente di ditate, non può essere altrimenti, uno dei motivi per cui io non avevo calcolato queste palette, è perché la prima uscita era la Prism, che era tutta coloratissima, molto blu, molto azzurro, io all'epoca non guardavo proprio i colori, soprattutto di quel genere, forse neanche adesso, comunque la disposizione colori, non so, mi ricordava le palette di Makeup Revolution, che io non amo, e quindi non mi hanno ispirata, però poi negli anni, vedendola in azione, ho cambiato idea. Comunque questa è la Mineral Escape Palette, spero di non accecarvi, questo packaging non aiuta, di sicuro, ha uno schema colore particolarissimo, particolarissimo rispetto a cosa c'è in giro, di matte ce ne sono pochi, ve lo dico, ce ne sono due, questo grigio qua, e questo rosina desaturato qua. Questa palette è ispirata ai mari del nord, infatti anche la campagna pubblicitaria, c'è questa ragazza che esce da questo mare, ma si vede che è un mare ghiacciato, un mare scuro, non è il mare dei Caraibi, mentre ad esempio la Kalahari era ispirata al deserto, non mi ricordo quale deserto, deve essere al deserto Kalahari, in mano, ce la puoi fare, ok, questa ha un'ispirazione totalmente diversa, questa palette, come quella precedente, che è la Remembrance, sono però sotto la direzione creativa di Lucia Piga, che tra l'altro è anche italiana, ah, mi dimenticavo, tutte e due sono made in Italy, Lucia Piga si è visto già nella Remembrance, che ha un piglio completamente diverso da Isamaya Beauty, Isamaya, anche se vedete cosa fa con il suo brand, è una persona, diciamo, definiamole eclettica, molto particolare, queste palette invece di Lucia Piga, sono molto più tranquille, la Remembrance lo era molto nelle colorazioni, che erano tutte sul rosa, rosino, un po' caldo, un po' no, però ecco non si discostavano più di tanto da quelle, mentre qua, secondo me, la sua appaccatezza si vede nella texture degli shimmer, infatti una cosa che mi dispiace rispetto alla Kalahari, sono proprio gli shimmer, non che siano dei brutti shimmer, no, ma nella Kalahari ce ne sono molti più luminosi, qua ce n'è uno, forse due, che hanno quella luce in più, gli altri sono molto più tranquilli, sono più metallici, più metallizzati, meno luminosi, non li definirei neanche dei metallizzati, forse ricordano un po' la formula wet and dry di Tom Ford, ecco, ma meno luminosa, mettiamola così, e altri sono dei statinati, quindi è vero che ci sono solo due matt, ma tutti questi ombretti possono essere usati come ombretti per sfumare, e per intensificare, naturalmente, questi due la fanno da padrone, questo è un po' più teal, questo è un po' più blu, ci si può sbizzarrire come abbinamenti, ma si può anche usare come palette da one and down shadows, stessa cosa che si può fare con lei, ed è appunto questo, secondo me il suo punto di forza, la sua versatilità, e lo schema colore è veramente molto molto particolare, e per quanto mi riguarda, al momento molto nel mio corde, perché sto amando, io non so cosa mi è successo, sto amando il blu scuro, questo appunta di blu, blu scuro ma intenso presente, anche blu scuro scuro, l'importante è che non sia azzurro, bellissima, mi sarebbe piaciuto però vedere gli shimmer che ci sono nella Kalahari, purtroppo non si trovano scontate, questo è, infatti fossero uscite su Cal Beauty, forse qualche sconticino lo si poteva trovare, su Bairedo mi pare che ci sia ancora, però contate che va auto stock e torna disponibile ogni 3x2, finché continua a tornare disponibile, nessuna dogana con il sito di Bairedo, spedizioni velocissime, tra l'altro spendendo un certo tot, e lì il tot c'è, io ho preso solo quella, non si pagano spese di spedizione, una paletta, che non avevo intenzione di prendere, proprio per niente, e tra l'altro coincideva con il mio periodo, di proprio non giro niente, non filmo niente, quindi non avrebbe avuto senso, anche per chi adesso lo capite, perché non è il mio tipo di palette, me l'avete detto anche voi, però l'ho trovata con un super sconto, non so così, e non ho resistito, ho detto la voglio provare, e sto parlando della palette di Natasha Denona, Hyper Natural Face Palette, uscita ad inizio anno, forse dopo la collezione Berry Pop, quest'anno Natasha con le palette occhi si è un po' tranquillizzata, rispetto all'anno scorso, questa è la palette, una palette viso occhi, parte viso opaca, parte bronzer contour, più contour che bronzer, molto carina, però non così versatile, nel senso, non credo che tutti i tipi, e tutti i colori di pelle, riescano a usare questa palette, soprattutto per quanto riguarda, questa parte di bronzer contour, perché questo si è scuro, ma non così scuro, ecco, io mischiati riesco ad usarli, blush opachi, carini, abbastanza leviganti, durevoli, questi polveri qua a viso mi piacciono molto, sono facili da sfumare, sono piuttosto leviganti, non fanno macchia, secondo me si modulano anche bene, qua dipende sempre dalla scelta del pennello, però questo è il motivo per cui, io non volevo questa palette, queste cialde qua, tranne lei, che è la cialda più luminosa, che si chiama Dreamy, non volevo questa palette, perché avevo letto, come erano formulati questi ombretti, questa è una formula nuova di Natasha, ed è una formula in crema, e leggendo appunto, le caratteristiche, sono pieni di olio, quindi ho detto, questi sulla mia palpebra, non durano niente, ma lasciando stare questa cosa, allora dovrebbero essere tutti ombretti luminosi, voi li vedete così in cialda, ma swatchati di luminoso, io vi assicuro che non c'è niente, niente, forse il luminoso dell'olio e del burro con cui sono fatti, ma vedete luminosità, io non ne vedo, meno male che c'è appunto quella cialdina lì, luminosa, che mi ricorda tantissimo, una cialda della Retro Glam, di quella verde rosa, che è una cialda di praticamente solo shimmer, forse questa dà un po' più arrosato, quell'altra un po' più platino, bellissima, lei è veramente carina, sull'occhio dà questo effetto bagnato, e applicando lei sopra di loro, gli ombretti su di me durano tutto il giorno, ma io questa cosa l'avevo già notata con altre palettes di Natasha Denona, dove i suoi metallici classici messi così non mi duravano niente, se ci picchiettavo sopra gli sparkling foil, chroma crystal, comunque ombretti più luminosi, lì la durata aumentava, c'è da dire però che io questi ombretti qua cremosi da soli, non li ho mai utilizzati, perché non danno alcuna luminosità, quindi io ho bisogno di lui, e di conseguenza non vi so dire la reale durata di questi ombretti sulla palpebra, solo loro, però vi posso dire una cosa, io ho cercato di strutturare dei look, nel senso mettendo questo più scuro all'esterno, usando diversi colori, cercando di fare una sfumatura, per quanto io variassi nei giorni, il trucco che ottenevo dopo un'ora era sempre lo stesso, cioè sembra che questi ombretti poi si vadano a miscelare assieme, e si prenda tutta la struttura che si è dato al look, poi cosa ne usciva fuori era bello, sì, molto semplice, nulla di stravagante, nulla di costruito, però c'è da tenere in conto questa cosa, inoltre questi due più scuri qua non intensificano così tanto come avrei voluto, palette carina, anche di lei ne avrei potuto fare meno, assolutamente sì, però ero troppo curiosa di provare questa formula, ma un'altra cosa che mi stavo dimenticando su questa palette, mi sono andata a lavare le mani perché è un pieno di brillantini, l'aspetto non mi piace, non mi piace proprio come... a vederla così, infatti appena ho riuscita, la prima cosa che mi era venuta all'occhio era come era fatto, ho detto no, sembra brutta, cioè a vederla così sembra proprio brutta, secondo me è dato da queste cialde viso separate in questo modo, che a parte l'aspetto, ma sono anche poco pratiche, il blush ancora ancora, secondo me è messo così per cercare di dare questo effetto ombretto, cioè usare il blush più scuro attaccato alle tempie, e poi quello più chiaro verso il centro del viso, volendo, se no mischiate, se no uno alla volta, però queste cialde contour bronzer, chi si può permettere di usarle tutte assieme, ok, e io lo faccio anche, però non è che il colore che ne esce fuori faccia proprio per me, io dovrei usare praticamente solo questa cialda, soprattutto per il contour, e qua, o si ha un pennello apposta, e io ce l'ho, è ok, però non credo che qualcuno si vada a comprare un pennello apposta per usare questa palette, se no risulta un po' difficile il prelevamento, penso alla vista sia una delle palette più brutte, poi è stata concepita per un certo tipo di persona, che non ha tempo di toccarsi, non ne ha neanche tanta voglia, o non gli piace tanto, dove si mette un ombretto spatafasciato sull'occhio, così in velocità con le dita, è ok, se invece si hanno, come la sottoscritta, in mente, il look più strutturati, piace giocare con i colori, con gli ombretti, intensificare di qua e di là, questa non è proprio la palette che fa per voi, e questo mi era stato detto da voi, ma io ero troppo curiosa di provare questa formula, ho ancora due palettes di cui parlarvi, tutte e due recuperate, innanzitutto la myth di Lisa Eldridge, sapete quanto io ami le texture, il finish degli ombretti di Lisa Eldridge, questa era l'altra colorazione, di quelle che ci sono in gamma, che più mi ispirava, le altre no, non mi piacciono, non le prenderò, ho finito qua, se non ne fa uscire di nuove, io ho finito qua, però lei, essendo io un amante dei viola, dovevo averla, anche sapendo che, qua all'interno, non ci sono ombretti, così tanto luminosi, come invece ci sono, nella Vega e nella Sorcery, che sono le uniche che io ho, ve lo confermo, qua non ci sono ombretti altrettanto luminosi, l'ho usata solo una volta, non vi posso dire granché su questa palette, perché è una palette viola, io ve l'ho detto, sono scaramantica, e questo veramente non è il periodo, per altre sfighe, io ho usato lei, e il giorno dopo, sono iniziata a succedere, tante di quelle cose brutte, che non ve lo sta a dire, il look che venne venuto fuori, mi piace, sì, ma, per quanto mi riguarda, almeno per cosa ho usato io, vengono fuori look, molto intensi, molto smoky, vi ripeto, non vi posso dire tanto, delle tre che ho, questa naturalmente, è quella che mi piace di meno, io però ho preso questa palette, non tanto per usarla, da sola, io l'ho presa, per abbinarla alla sorcery, e ad un ombretto in crema, vi devo far vedere, perché, secondo me, questi viola, con quei verdi lì, stanno da dio, era autostock, da mesi, quando appena è tornata disponibile, l'ho presa, poi è andata di nuovo autostock, nel giro di, credo, un'ora, però adesso è di nuovo disponibile, mi sembra che, al momento, lo siano tutte, quindi questa, devo ancora provarla bene, ci riaggiorniamo, altra palette, che, dovevo recuperare, e su questa avevo pochissime speranze, perché è andata a sold out, subito, quando è uscita, ed era un'edizione limitata, c'è sempre di mezzo Lisa Eldridge, sto parlando, della palette, di Lancome, in collaborazione, con il Louvre, ed è la Richelieu Wing Palette, questa qua, io questa, all'inizio, l'avevo vista, non mi aveva fatto impazzire, non mi aveva colpito, finché non l'ho vista, mannaggia, sti pennellini, finché non l'ho vista usare, quando l'ho vista usare, tutto ok, la sono andata a cercare, da Sephora, da Pinalli, e tutto, e speravo arrivati in negozio, sapete che io non amo comprare online, non è mai arrivato in negozio, quando mi sono decisa, prenderla online, era disponibile solo, sul sito ufficiale di Dancome, era già sold out, quindi niente, ci ho messo una pietra sopra, e bom, volevo farvi vedere anche il packaging, esterno, perché è fantastico, ecco, questa è la scatolina, con cui arriva, anche lei, è un po' diversa dal solito, si apre così, c'è questo bigliettino qua, qua è tutto in vellutino, no, gomma, gomma più ma, sembra vellutino, ma non lo è, poi c'è questo bigliettino qua, che è un busto presente, in una sala del Louvre, penso quella dedicata a Rochelieu, non lo so, non ci sono mai stata a Louvre, sono stata un po' di volte a Parigi, ma a Louvre purtroppo, non ci sono mai stata, mai avuto il tempo, Allora, innanzitutto già il fatto che sia in collaborazione con Lisa Eldridge, doveva dirmi qualcosa all'inizio, però, non lo so, ho visto una palette di illuminanti, tra l'altro alcuni colori, quello dorato, quello più bronzato, ho detto, per me sono troppo scuri, non ha senso, sono illuminanti, non ne hai bisogno, e poi ho visto applicato questo verde qua, che cosa non è questo verde? io spero che possiate cogliere questo verde, sembra avere una base nera, poi ha dei riflessi dorati, viola, azzurrini, è bellissimo, lo vedete che diventa violaceo, funziona bene, oltre che applicato su tutta la palpebra, come ombretto luminoso, e questo fa molta luce, anche se è scuro, qua ho dato una ripassata, funziona anche benissimo sfumato, come ombretto sfumato, anzi, li tira fuori di più le sue sfumature violacee, le altre cialde, allora, io le ho viste applicate le altre cialde a ragazze, e almeno questa, che sembra essere la più luminosa, delle altre cialde di illuminanti, sull'occhio, io le ho viste performare in un certo modo, saranno le luci, sarà quello che volete, però sul mio occhio, questa, non dà lo stesso effetto luminoso, anche se, swatchato così sulla mano, ok, non so, questa palette l'ho provata poco, o qualche volta, devo riprovare ad usare lui, su tutta la palpebra, perché, non riesco ad avere, quell'effetto luminoso, che ho visto, su altre persone, anche loro, ombretti, one and done, ma anche le altre cialde, le altre cialde, però, queste tre qua, sono meno luminose, questo per quanto riguarda la parte ombretti, si potrebbero usare tutte sugli occhi, ok, ma, gli illuminanti viso, ah, io non mi sono soffermata, sulla stampa, che c'è su questa, che è anche rovinata ormai, su questa palette, la vedete, parte di una testa, di una statua, mamma mia, cioè, gli illuminanti, sono seta, sono seta, ce n'è appunto, di più luminosi, come questo qua, più bronzato, che io uso, come blush, naturalmente, tenendomi lontano dai pori, ma come blush, è bellissimo, naturalmente, luminoso, neanche a dirlo, però, la cialda più grossa, per me, è perfetta, come illuminante, ed è un illuminante, che a me piace tantissimo, perché ha poca base colore, è sottilissimo, è morbidissimo, non ne enfatizza, per niente, lo adoro, anche questo rosino qua, mi piace un sacco, come blush, questo è meno luminoso, del bronzo, e con lui, riesco ad andare, un po' più all'interno, infatti, quando uso questa palette, lui negli occhi, e, tutte queste cialde, sul viso, quello più dorato, è l'unico, che uso un pochino, perché, non è il mio colore, di illuminante, come ombretto, è poco, poco luminoso, ma anche poco pigmentato, quindi sul viso, andrebbe benissimo, forse, se fossi abbronzata, andrebbe, altrettanto bene, come illuminante, però, ecco, è la cialda, che uso meno, peccato, peccato, che sia un'edizione limitata, ah, non vi ho detto dove l'ho trovata, l'ho trovata, ma c'era, c'era, ero io che non volevo, c'era su Selfridges, su Selfridges, non era autostock, Selfridges, è un sito inglese, una volta, spediva senza problemi, in Europa, adesso, da quando c'è la Brexit, c'è qualche problemino, io non ci ho mai acquistato, ero sempre un po' in dubbio, poi le cose che trovavo su Selfridges, le vedevo anche su altri siti, e lì erano scontabili, su Selfridges no, e quindi, ho sempre evitato, però, allora, innanzitutto, riuscite a prendere su Selfridges, solo alcune cose, tutto no, non si sa, con quale criterio, alcune cose, le palette, più o meno tutte, mi sembra, ma già, altri prodotti makeup, bisogna farla prova, se te lo aggiungo al carrello, questo è, ma il problema, per cui io, non l'avevo presa prima, è che le spese di spedizione, sono, una fucilata, 18 euro, oppure, si può fare un abbonamento, che dura per un anno, pagando 60 euro, lì si hanno le spese di spedizione, gratuite, tra virgolette, tutto l'anno, e quindi, avrei dovuto pagare, il costo di questa palette, che non è economica, più, poi 18 euro, veniva un prezzo, per me, troppo alto, e quindi, ho detto, lasciamo stare, finché Selfridges, non ha fatto i saldi, tipo, un mesetto fa, e questa palette, era scontata, allora, lì, mi sono lanciata, va bene, molto contenta, di averla recuperata, mi sta piacendo tantissimo, sia come palette viso, che come palette, occhi, per gli occhi, ripeto, però, mi sto concentrando, sul verde, che è stupendo, rieccomi, scusate, io ve lo dico sempre, che sono stordita, ma è la realtà, cioè, non lo dico per ridere, è proprio così, avevo già, fatto i saluti, finali, stavo, per fare la copertina, del video, e mi sono accorta, di non aver, parlato, di una palette, è una palette piccola, mi è sfuggita, ma non è così piccola, mi sono dimenticata, di parlarvi, della palette, di Prada, queste sono, le Prada Dimensions, anche loro, sono uscite l'anno scorso, quindi anche loro, sono un recupero, queste nel colore, 04, poverti, ero convinta, fossero made in Italy, invece sono made in France, comunque, sono palette, piccoline, refillabili, infatti, dietro, qua dietro, c'è questo triangolino nero, si schiaccia, e viene fuori il refill, il packaging è molto bello, dorato, specchiato, pieno di ditate, come al solito, ha due pennellini, oltre lo specchio, tra l'altro, lo specchio è uno di quelli che sta fermo, due pennellini, che sono un po' diversi dal solito, sono tutti neri, e stranamente, non cadono dal packaging, queste palette, sono uscite appunto, l'anno scorso, in varie colorazioni, io non le ho prese, per diversi motivi, ne avevo viste, recensioni, belle, avevo visto dei belli shimmer, ma non riuscivo a decidermi, sulla colorazione, e quindi ho sempre un po' lasciato per, non è così imperdibile, poi anche, come sono disposte le cialde, all'inizio non mi faceva impazzire, adesso, avendola sott'occhio, non mi dispiacciono, non riuscivo a decidermi sui colori, perché tutte queste palette, hanno questi tre colori, abbastanza neutri, che variano, sono, alcuni sono più freddi, alcuni sono più caldi, questo è più rosato, però comunque, sono tutti, abbastanza tranquilli, portabili, e poi hanno, un pop di colore, ecco, io, ho dei problemi, con questi pop di colore, soprattutto, nell'abbinata, con le altre cialde, mi spiego, c'è una palette, quella che ha il pop di colore, rosso aranciato, che ha questi neutri, questi colori più neutri, qua, che mi piacciono tantissimo, però, appunto, ha quel colore arancione, che io non amo, anzi, qua, c'era rosa, lo vedevo troppo rosa, finché, non ho visto il solito video, di Alice Archer, e, niente, mi sono convinta, appena l'ho trovata scontabile, l'ho presa, queste palette, sono rivendute, sia così, con il packaging, tutto, oppure, si può prendere, solo il refill, sono in vendita, oltre che sul sito ufficiale, che però, non so come funzioni in Italia, perché non ci sono mai andato a guardare, sono in vendita anche sulla rinascente, e su Sephora, sulla rinascente, sono sempre scontabili, con qualsiasi codice, sconto ci sia, però, vengono, di più, rispetto a Sephora, che strano, però è così, su Sephora invece, non sono scontabili, o meglio, non tutte le colorazioni, sono scontabili, in base a che cosa, io non l'ho capito, però, non tutti i colori si scontano, alcuni sì, alcuni no, quindi, se vi interessano, andate a vedere, fate delle prove, questo qua, che volevo io, fortunatamente era scontabile, l'ho preso su Sephora, rispetto al tempo da cui ce l'ho, l'ho usato apparecchio, e mi piace anche tantissimo, quattro colori, ma si riescono a fare look, abbastanza diversi tra loro, si riesce un po' a sperimentare, tutti gli ombretti all'interno di questa palette, hanno finish completamente diversi, questo più scuro, è un matte decisamente più classico, pigmentato, naturalmente pensato per andare a intensificare l'occhio, per questo è così piccolo, perché pensato per essere prelevato con un pennellino piccolo, questo pop di colore, è in una texture sempre matta, sì, ma poco pigmentata, rispetto a cosa sembra in cialda, rilascia poco colore, ma ciò è fatto apposta, vedete, questo è lo swatch che ho fatto, toccando la cialda, cioè lo swatch, toccando la cialda, non viene su un colore pieno e intenso, per usare questi colori senza esserne spaventati, si riesce a stratificare, sì, ma non più di tanto, cioè non pensate di arrivare a un colore pieno, è proprio pensata per avere questo colore soffuso, come associazione ai colori, non so, io quando vedo verde e rosa, mi ricordo sempre della retro glam di Natasha Denona, o della mini retro volendo, l'ho vista poi applicata e ci sono cascata, ecco, questi sono i colori, vedete che il verde l'ho passato, l'ho ripassato due volte, vedete invece lo shimmer, come shimmer, è bellissimo, il verde e il rosa, scusate, questo colore qua di mezzo, albicocca, non lo so, non so come definirlo, sicuramente è un po' più caldo, è un satinato, non è né un matte, né uno shimmer, ma è un satinato, che volendo, chi non ama, o magari non si ha voglia di avere uno shimmer luminoso sugli occhi, si può usare come ombretto tutta palpebra, ed ha una leggerissima satinatura, e io mi sto divertendo parecchio con questa palettina, tant'è, tanto mi è piaciuta, che sto iniziando a guardare altre colorazioni, ma il mio dubbio sui colori pop e sull'abbinata con i neutri permane, e con questo spero di aver finito sul serio questa volta, fatemi sapere quale di queste palette vorreste vedere per prima in azione, so che ve l'ho detto anche nel video delle palette, non ho più voce, del 2023, dove devo ancora farvene vedere in azione alcune, sono indietrissimo, però cerco di recuperare, promesso, cerco di farvi vedere tutto, io vi saluto, vi ringrazio, e spero di vedervi nel prossimo video, ciao!